Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Fabro e Incisa Reggello e tra Firenze in Pruneta, il vivio con la variante di Varico-Baccheraia e rallentamenti tra Aglio e Badia. In direzione Roma, code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino, code in uscita a Val di Chiana, provenendo da Roma e un incidente si è verificato in entrata a Valdarno. In A11 sulla diramazione Lucca-Viareggio, code a tratti tra Lucca e Massarosa in direzione Viareggio. In A12 verso Genova, rallentamenti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano e code a tratti tra l'allacciamento con la diramazione di Livorno e l'allacciamento con la 15. Verso sud, code alla barriera di Rosignano. Sulla statale 1 Aurelia, code a tratti tra San Vincenzo e Vada verso Livorno. In Fipilì per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna, due chilometri di coda verso Firenze e un chilometro di coda verso Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!